oh ok eccoci arrivati su orsi insieme al buon manu il buon lion e il buon villaggio io ho assolutamente bisogno di cibo quindi aspetta però non correre non correre guardiamo prima col binocolo se c'è qualcuno osserva osserviamo sono un po' di zoni si oh no stai armando uno dove dove nella casara marrone è armato non credo però ma è dentro la casa marrone adesso è dietro la casa marrone aspetta aspetta teniamolo doppio starà starà eccolo eccolo è uscito a sinistra lo vedi? no sulla sinistra della casa marrone nel prato casa marrone ah io lo vedo ma mi stai prendendo per il culo no 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 è lì gli sparo eh aspetta no è nel mirino ma vedi ah lo vedo anche io ma è armato no lo so no è disarmato lascialo ma perchè devi sparare lo spavento questo è un atteggiamento da bimbo minchia eh gli stai sparando anche tu l'ho preso mi è apparso il segnalino ah anch'io allora eh vabbè facciamo cagare eh eh è difficile ok basta basta lasciamolo andare ma ormai mi sei passato davanti sei matto eh ma quanti colpi ci vogliono per dai ormai andiamo prenderlo facciamo due merde muori bastardo voi l'ho preso ma quanto si sta curando non so devo risalire verso sinistra io ho bisogno di cibo magari lui ne ha ma è una lotta per la sopravvi siamo giustificati ucciderlo a meno io sono giustificato credo che sia morto comunque anche io ho appetito eh l'appetito viene sparando si ho molto appetito infatti e io sto morendo di fatto guarda o è morto o è sparito o ha slogato potrebbe no ha slogato no perchè in questo gioco è difficile slogare mentre ti sparano però non ho mai scappato sai si ma era qua eh ah ci sta che abbi siamo delle me- vabbè ma è che fine ha fatto? non so ma andiamo al villaggio va andiamo al villaggio eh anche io ho proprio bisogno di cibo si però parla più forte perchè se sussurri eh mica ti sento io eh mi senti? eh ti sento si trova la incursi affanculo ah peccato non eh non so qual'era più merda di noi però perchè secondo me ha slogato eh pensi di sì eh ehm scusa oh è sparita la str- ah è vero è sparita la strada ehm strada eh vabbè mi sta scendendo la salute ah sei proprio messo male in quella maniera ma forse erano mie lecchiazze di sal non so allora io corro si e se sei morto è il ciclo come hanno scritto nei commenti una volta che schifo cazzo sei un eh echiazze rosse tegame sei è brutta sei allora allora vediamo un po' se troviamo ma scusa ma stai morendo di fame e di sete fa fame ma guarda mi sa che non si muore di fame vabbè mi sta scendendo la salute qua c'è un succo di frutta forse questo ti ripristina anche un po' di fame prendelo ok anche io sto messo male comunque di fame ok dobbiamo assolutamente trovare qualcosa di commestibile di cibo sento rumori di zombie ah qua c'è un'acqua prendila tu ma no io ne ho già tanti vabbè è meglio che ne hai più ne hai più ne puoi prendere avrò 13 bottiglie c'è zombie qui è da qualche parte vicino dove? non lo so ma lo sento lo senti anche tu? e lo sento ma è lontano secondo me sta grugna è qua dietro secondo me sai ce l'hai il martello si ce l'ho il martello ma vabbè ci pensi è qua la vedi è di lì lo vedi un uomo è di senso ti ha mazzuolato no ha provato ha provato qui è dubbio ah finchiller li prendo io mi chiede una scorta esagerata eh ah c'è un altro martello oh anche se c'è cibo per me perchè io sto morendo lo stesso eh eh ma io sono peggio ma non c'è niente qui ma che cazzo è stato già saccheggiato eh porca se lo ritrovasse il tizio di prima gli sparerei di nuovo eh cioè questa è fame è per sopravvivere sopravvivenza oddio ho aggrato aspetta penso io vai indietro vai indietro eh oh no lo mi sa l'hai preso il corpo oh oh ho attratto ho attratto aspetta 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 è attratto si è attratto vieni qui puttana eh ma continuano arrivarne oh cazzo ma guarda che io ne ho di munizioni eh mi hai rifocillato mia ahia ok ok vuoi che ti dia dei pain killer fermo ti do i pain killers cos'ha? eh ah tu dici per mangiarli magari fa passare la fame te li ho no ti ho curato però ah è vero ok thank you per mangiarli eh le pastiglie non so ancora sono indeciso se il gioco è più bello in prima persona o in terza eh secondo me è in prima persona infatti io sto giocando in prima persona eh io io switcho oh zombie 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 muori allora mi si che sono messi male eh qua moriamo di fame registreremo la nostra morte eh per cause alimentari si eh ma possiamo mangiare uno zombie che dici? credo che faccia male oddio aia oddio ma devi smettere di spazzare eh troppo bene oh no puttana oh no l'ho mancavo muori ok ehm eh la situazione è grave ma non fuggi ma non fu oh oh devi fuggire forno no che no ti aiuto ah che che mira oddio spero aspetta che devo omettere un altro mica l'estero arriva da tutte le parti ora ehm al mio martellino uh vediamo il pulmona ma io sto morendo di fame eh scolaretti avevano il panino rubiamogli il panino ehm spero non lo so ma ci sono altre case accessibili non lo so magari dietro quelle forse questa specie di bunker qui è accessibile ma niente ma bevendo non ti aumenta la fame vero magari può mangiare anche l'involucro della bottiglia chile plastica si vede l'ufficio postale si può entrare qua ah ok oppala ah ehm della posta magari qualcuno ha spedito un cibo eh magari anche uh una coca cola eh io la prendo comunque me la bevo magari aiuta che ne so eh un po' lo bevo non ha aiutato niente inserlo questo paese non c'era nulla non c'era scusa fammi guardare la mappa eh potremmo andare verso lontri oppure no sai dove possiamo andare possiamo andare all'aereo schiantato eh ma non è che si muore mmm non credo eh intanto moriamo di fame eh ah ok dai proviamoci allora io direi che qui possiamo staccare oh cazzo ahia ok vai 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 ok mi ha passacrato ma è qua l'aereo stai tranquillo è qua è qua vieni ah è qui ok ma c'è da cibo eh devo indirizzarmi bene di qua di qua vieni vieni possiamo anche sprintare un pochino forse comunque sa che dicevi che quando il cibo in rosso non ti fa sprintare si ma ancora ma mi sa che non non è non è così non so perché io adesso sono proprio messo male come cibo ma sei proprio cioè ma sei in rosso o sei vuoto vuoto proprio il rosso è in vuoto perché non ti fa sprintare in teoria quando sei vuoto completamente ah ma tu dice la salute no 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 il cibo però proprio a terra zero in teoria poi non lo so eh magari ancora non mi scende la salute oppure io lo so lo so male scrivete nei commenti se voi sapete bene come funziona cibo e acqua perché qua non si è capito un cazzo ancora spiegatecelo spiegate credo che comunque muori prima o poi muori anche se sei senza mangiare grazie e non vorrei arrivare a quel punto so allora dai smettiamo di sprintare però perché se no poi arriviamo là che stiamo già messi male dove sta ecco tipo qui ci sono dei alberi rotti qua ma tu ci sei mai venuto in questa zona no in questa zona no qua gli alberi rotti li ha schiantati l'aereo ho capito ecco perché il pilota era un tegame che è andato a a a tirar giù tutto quando si doveva poi atterrare ha distrutto ha tirato giù la foresta era era leonardo era leonardo speriamo che non ci sia nessuno però ma non credo dai eh speriamo vedi qua si può entrare nella pancia dell'elicottero da dietro e qua ci sono zombie com'è sì sì ci sono ce n'è uno la con la zucca in testa ahu è uno zombie di halloween aspetta che lo guardo bene bellino scu mamma mia brutto fa paura comunque quello c'è di tutto ho trovato del cibo nel rettore bastardo anche io no questo me lo poco io ti uccido e ti patatine potrei ammazzarti e rubarti il cibo eh ma non mi ha aumentato di niente potrei ammazzarti e rubarti il cibo dallo stomaco ti spancio e me lo mangio che schifo ma ti aspetti te lo evacuo lo prendi poi no grazie quel momento lì non lo voglio più già da dentro lo stomaco mi fa schifo lo elaboro eh ma io sto messo male eh eh ma quella è che non mi ha aumentato di nulla eh questa me la cicio io se è cibo cioccolate bar uh c'è un fucile un altro eh lo prendo non ha fatto niente questa cioccolate bar eh proprio un cazzo oddio è rinvenuto ma salolalo te ne sta arrivando un altro vai mano da destra dove dove ah ok dove dove oddio il suono pauroso ok scusa fammene ammazzare uno a me fermo eh fermo ma prendi il martello no niente è martello ma non sparagli sei ma oh mio dio eccolo ma che goduria aiuto oh no sono assai tu è bruttissimo con la zucca è bruttissimo è bruttissimo morto cazzo non è proprio mentre sparagli che ne continuiamo eh credo che sia l'ultimo quello lì eh no ahia mi ha anche preso è preso ma stato ti fornisco il pain killer fermo è brutto è brutto è brutto è brutto è brutto Grazie per la visione!